Risparmiare acqua si può, anzi si deve. La notevole scarsità di pioggia che in Italia ha caratterizzato l'inverno 2016 e la primavera 2017 ha provocato una drastica riduzione delle risorse idriche disponibili anche in Campania. Nel Napoletano l'allarme è scattato soprattutto sui monti lattari. A soffrire dell'emergenza ci sono i comuni di Gragnano e Pimonte con alcune frazioni rimaste completamente senza acqua potabile. Per affrontare l'emergenza idrica, la Gori, società che gestisce le risorse idriche nel territorio napoletano, ha predisposto una serie di interventi, video tutorial sui social network, manifesti e locandine su tutti i territori interessati. Gori si è inoltre resa disponibile ad installare gratuitamente rubinetti a pulsante alle fontane pubbliche presenti nei comuni dell'ambito distrittuale sarnese e vesuviano. Per la verità stiamo operando su diversi campi, uno di questi è quello di informare la cittadinanza sull'uso responsabile della risorsa che è uno degli elementi fondamentali. Di fronte a un tema di scarsità dell'acqua dobbiamo tutti quanti contribuire a farne un uso che sia quanto più oculato è possibile. Disagi si avvertono anche nel Salernitano, rubinetti a secco di notte nella zona est della città capoluogo. In provincia invece la situazione più preoccupante si registra nel Cilento dove una cinquantina di comuni hanno disposto la chiusura delle fontane pubbliche. In Irpina l'emergenza perdura da un mese e andrà avanti fino a luglio inoltrato. Stop idrico previsto nel fine settimana nelle zone periferiche di Avellino, ad Ariano Irpino e nell'Interland del capoluogo.